Yahoo di nuovo nella buferra dopo la vicenda del furto di milioni di informazioni private da parte di un gruppo di hacker. La società americana avrebbe raccolto in gran segreto centinaia di milioni di mail dei propri utenti, scannerizzandole e mettendole a disposizione dell'intelligence USA. Con un appello su Twitter, Edward Snowden, la talpa del DataGate, ha invitato tutti i clienti di Yahoo a chiudere immediatamente l'account. Secondo l'agenzia di stampa Reuters, l'azienda avrebbe usato segretamente un software per filtrare la posta elettronica e cercare mail con determinate caratteristiche. La richiesta, sempre secondo Reuters, sarebbe arrivata da FBI e NSA, l'agenzia per la sicurezza nazionale, accusata proprio da Snowden di spiare conversazioni via telefono e internet in tutto il mondo.